troppo cattivi allora intanto complimenti se siete stati bravissimi grazie da sempre, praticamente da sempre ci sentiamo ripetere che ad essere troppo buoni ci si rimette ma è vero oppure è vero è vero è troppo stroppi adesso vi ho detto la banalità è vero va male anche nella volontà è vero ma anche io voglio dire in un passato recentissimo cioè il pranzo di oggi faceva effettivamente schifo no, nessuno di me ha avuto il coraggio di dire io me lo sono anche messo davanti ah pure, forse ho un problema io ma non ho avuto il coraggio di dire che sono troppo buona e quindi dire, ah ma buoni, faceva schifo faceva schifo la verità è che la bontà e cattiveria dobbiamo iniziare a farle convivere ognuno deve trovare la propria miscela ma nessuno dei due ingredienti deve essere completamente abolito se si abolisce la cattiveria e si resta solo buoni quindi si diventa troppo buoni ma è troppo buono ma come farei io senza questo? come farei senza lui? come farei? i protagonisti dei film sono una banda di ladri gentiluomini però possiamo dirlo molto molto affabili puoi dirlo in realtà da bambini c'era qualcosa che desideravate così tanto che l'avreste rubata? non so, un giocattolo di un amichetto all'asilo? io personalmente ho rubato io da bambino ho rubato al supermercato ho rubato qualche volta cosettine, non chissà che cosa io ero molto precoce da bambino quindi desideravo che invasi mi dicono ancora di imparare a leggere però non l'hai rubata io non l'ho rubata però no però di desiderare che invasi avevo avuto 3-4 anni già e mi piaceva tanto che invasi secondo me c'è un... tutti quanti noi abbiamo sotto una cattiveria che spesso reprimiamo quindi per noi è stato un po' più facile che mi sembra insomma sei di fronte a 30 venti da questo punto di vista perché la cattiveria bisogna imparare a incanalarla esatto qualcosa che non ferisca davvero l'altro personalmente appunto l'ho incanalata nella comicità ma ciascuno può trovare il proprio modo il cuoco per esempio l'ha incanalata nella cucina prima nel pranzo ciascuno può incanalare la cattiveria in qualcosa buoni, cattivi però possiamo dire che la morale del film va oltre e quindi tocca il giusto e lo sbagliato come dice come canta Vasco Rossi prima c'è il giusto e lo sbagliato siamo d'accordo su questo sono due elementi più importanti forse dell'essere buoni o cattivi che ne pensate? beh assolutamente ma proprio perché anche lì poi si diventa il giusto o sbagliato cioè il senso del film è un po' non fidiamoci solo delle apparenze andiamo un po' oltre vediamo cosa c'è dietro vediamo capiamo che ci sono vari livelli che ci sono non tutto è come sembra non tutti siamo bianco o nero ma ci sono tanti grigi in mezzo e quindi imparare a vedere queste cose ma sì che non è questione di giusto o sbagliato ma è questione di punti di vista e poi il giusto e sbagliato secondo me si determinano con una disponibilità al cambiamento cioè tu non conosci il giusto e sbagliato se non rischi se non provi quindi il concetto anche di provare di rischiare secondo me del coraggio è centrale in questo film sicuramente averci scelto è stata una cosa giusta coraggiosa come ultima cosa i più piccoli il pubblico più piccolo associa le vostre voci ai personaggi è motivo d'orgoglio immagino da parte vostra assolutamente assolutamente sì avere mia nipote vicino ma anche per bene avere mia nipote vicino e mi dice ma come hai fatto a fare quella cosa lì cioè per me io l'ho visto al cinema con i bambini in anteprima e devo dire che i bambini si divertono molto ballano cantano partecipano ridono molto purtroppo quasi tutti si affezionano il professor Marmelada guarda che è una cosa incredibile ma ci sarà motivo se questo signore è candidato all'Oscar ci sarà motivo diciamo questo che ho passato l'estate a mandare vocali mi fai Ercole di sconti per mio figlio mio nipote mi chiederanno anche il professor Marmelada hai una chat oscura con tutti quanti i nipoti e i bambini del cast ho la chat dei genitori esatto un irresistibile porcellino d'India personalmente già grazie mille grazie 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 complimenti ancora molto bravi grazie mille Grazie.